Colpita da un infarto ormai al nono mese di gravidanza con la nascita della bambina quasi vicina e arrivata all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno che oggi annuncia il lieto fine con un bel fiocco rosa. Grazie ad una rete tra reparti ad un team multidisciplinare per condividere il percorso più opportuno i medici hanno fatto nascere la piccola con un parto cesario dopo aver trattato la mamma. Adesso entrambe stanno bene. Era quasi alla 36esima settimana di gravidanza la giovane mamma albanese che dopo essere stata operata al cuore in seguito ad un grave infarto ha partorito comunque la sua bambina di 2 chili e 430 grammi. È il miracolo dell'anno 2022 all'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno che oggi annuncia questa storia incredibile dal lieto fine che ha visto una donna combattiva affrontare una dura prova prima di mettere al mondo la sua nona figlia. La signora in questione alla sua sedicesima gravidanza con nove figli nati e sette aborti subiti è arrivata in ospedale in condizioni critiche. Aveva un infarto cardiaco in corso ed era molto sofferente. È stata sottoposta quindi ad un intervento particolarmente complesso effettuato dalla dottoressa Adele Pierri della cardiologia interventistica diretta dal dottor Cesare Baldi la quale è riuscita abilmente e con successo ad aspirare un grosso trombo presente in un'arteria principale per quanto attiene la vascularizzazione cardiaca. La paziente in seguito è stata stabilizzata dal punto di vista cardiologico e trasferita nel reparto di gravidanze a rischio diretto dal dottore Mario Polichetti il quale insieme al dottor Francesco Marino direttore dell'ostretrice ginecologia ospedaliera ha seguito alla partoriente un intervento di taglio cesario per consentire la nascita della sua bambina. Mamma e figlia stanno bene, testimoni entrambe che la collaborazione repentina tra medici, la professionalità di ognuno può salvare molte vite.